Consigliere, anche lì hai ricevuto come gli altri la lettera a casa per la famosa zona Santa Caterina, come giudica questa azione? Per la verità sono rimasto sorpreso, mi è stato recapitato a mezzo posta prioritaria un plico e sono rimasto sorpreso nel vedere che alcuni cittadini ci chiedono di calendarizzare i lavori di una variante di PRG. Mi si è aspettato un atteggiamento diverso anche perché nella conferenza dei capigruppo c'era stato un tentativo di portare all'attenzione dei consiglieri comunali questo tipo di lavoro per questa variante di PRG, una zona di notevole pregio ambientale, molto bella e che quindi merita un'attenzione particolare. A lei non sono piaciute neanche le parole dell'assessore Abate Paolo sul tema? Io ho avuto modo di ascoltare l'intervista, lui ha sottoposto un po' l'aspetto della proprietà di quest'area, io non me lo pongo neanche il problema perché quando si parla di attività produttive e di interventi massicci in termini di cubatura su un territorio si deve individuare qual è l'aspetto di interesse collettivo e quindi indipendentemente da chi possiede quell'area oppure no. Consigliere, ma questa variante se dovesse arrivare in consiglio lei l'ha vota oppure no? Intanto io mi auguro che prima di approdare in consiglio comunale ci sia un'ampia discussione con l'attuale maggioranza per poter capire esattamente qual è la portata dell'intervento così come è previsto dall'attuale PRG e quale sarebbe a seguito della variante. Non dobbiamo dimenticare che la variante poi deve eseguire un certo iter, andrà a degli organi in regione che sono gerarchicamente sovraordinati e oltretutto io vorrei chiarirmi le idee su un aspetto che nessuno fino adesso ha considerato. Il nostro regolamento nelle norme di attuazione del PRG prevede la possibilità di scendere dagli attuali 300 metri previsti da legge Galasso ai 200. Ora io mi chiedo a me stesso, ma devo girare la domanda evidentemente a qualcuno che di giurisprudenza ne capisce più di me. Può un regolamento disporre cose diverse da quello che prevede una legge? Non credo che con un regolamento si possa modificare il contenuto di una legge. Quindi prima voglio capire questo tipo di discorso, dopodiché voglio capire la portata dell'intervento e con l'attuale PRG e con la variante, dopodiché potrò avere le idee più chiare e quindi decidere se votare a favore o a sfavore di questo provvedimento.